Portale, il paradosso della fabbrica paralizzata dalla burocrazia. Mentre si pregano le multinazionali estere a non abbandonare il territorio, gli imprenditori locali vengono abbandonati dalle istituzioni. Così l'amministratore della Portale, Nenetto De Rio. Asli e sindaci chiedono il ripristino dei servizi sanitari. La richiesta è stata avanzata, l'assessore alla sanità Luigi Arro in seguito ai disagi causati agli utenti dal taglio dei servizi. IGE assalta il sit-in dei lavoratori a Cagliari dopo la convocazione dei sindacati da parte dell'assessore all'industria per questo pomeriggio. Tema dell'incontro, il futuro dell'azienda. Porto scuso dice addio a Nicolino Sanna, il nonnino di 101 anni, l'uomo più longevo del paese se ne è andato tra l'affetto dei suoi cari. Ben ritrovati su Canale 40, lo avete sentito dei nostri titoli, il lavoro in apertura di TG. Resta ancora una grande incertezza sul riavvio della Portale di Portovesme, in attesa ormai da tempo dell'autorizzazione per installare due paleoliche. Il servizio. Il riavvio della Portale, ex Ila di Portovesme, continua a restare un sogno, un'utopia per il territorio e soprattutto per i lavoratori. A distanza di anni dalle prime autorizzazioni nulla è cambiato. Sì, in effetti sono dispiaciuto e amareggiato perché chi ne sta pagando le conseguenze, noi sotto un profilo economico perché abbiamo delle perdite o meglio dire dei mancati ricavi e abbiamo dei costi per circa 600 mila euro all'anno e siamo già a due anni e mezzo che stiamo attendendo, ma soprattutto quello che mi dispiace fortemente è il non poter avere avuto la possibilità di far rientrare questi 160 lavoratori che sono in mobilità e che diversi siamo riusciti, prima che scadesse la mobilità, ad inserirli in altre attività del mio gruppo. Altri stanno per scadere la mobilità e quindi a questo punto qualcuno si dovrà decidere per darci queste benedette autorizzazioni per tirare due pale perché solo con l'energia a basso costo riusciamo ad aprire la fabbrica e da farla operare anche nel futuro, non aprire oggi e chiudere domani mattina purtroppo per i costi energetici troppo alti. La situazione è diventata quasi paradossale, non si capisce infatti come sia possibile che un'area industriale già ampiamente compromessa dal punto di vista ambientale debba sottostare un vincolo che vieta l'installazione di paleoliche a 3 km dal mare e quanto stabilito da un decreto ministeriale è l'unico ente preposto a superare questo tipo di vincolo e la Regione. Ma sulla base di tutte le acrobazie burocratiche fino ad oggi effettuate, gli uffici regionali cosa rispondono in merito? La risposta è ancora zero. La Giunta regionale ha deliberato questo progetto positivamente circa 4 mesi, il tutto è passato all'assessorato all'industria, al che l'assessorato all'industria ha trovato, non so, non uso il termine cavillo, ma questa particolarità che pare che entro i 3 km dalla costa non si possano realizzare paleoliche. Adesso io mi chiedo se l'agglomerato industriale di Portovesme, che ormai è compromesso dalle industrie e da tante altre paleoliche, ne chiediamo soltanto due per poter far rientrare a lavorare questi benedetti lavoratori. Fermo restando che l'auspicio resta quello di una pronta riapertura dell'Alcoa e dell'Euroallumina al fine di riattivare la filiera dell'alluminio, c'è da sottolineare come da una parte si chiede a gran forza alle multinazionali estere di non abbandonare il territorio e dall'altra un imprenditore locale non riesce a far ripartire una fabbrica per la mancata autorizzazione a installare due paleoliche. Si sta preso giustamente all'Alcoa, gli americani che riaprono l'Alcoa, l'Euroallumina dei russi si sta preso a loro a tutti i costi pregando e supplicandoli di aprire e che ben vengano e che ben riaprono quanto prima per creare buste paga con la particolarità che poi gli utili, che i profitti ci sono in qualsiasi attività, vengono rinvestiti fuori. Adesso hanno qua davanti un'azienda, un gruppo che arriverebbe a circa 600 dipendenti, che già 350 li ha, se apriamo la fabbrica arriviamo a 500, se ci danno il benestare per le termine arriviamo a oltre 600 dipendenti e con una particolarità che quello che eventualmente verrebbe fuori dagli utili e dai profitti vengono rinvestiti nell'agglomerato sul citano che tanto bisogno ha di economia e non dobbiamo aspettare necessariamente che vengano col turbante per venire a creare posti di lavoro. Burocrazia e continui rinvii non potrebbero a un certo punto far desistere anche l'imprenditore più volenteroso? La speranza è sempre l'ultima a morire, si pensa e si presume che qualcuno abbia il buon senso perché il mondo è fatto di gente che se ne frega ma di gente anche seria che ha un minimo di buon senso nei confronti di chi ha bisogno, io sono fra quelle persone che non mi voglio arrendere, voglio andare avanti perché c'è qualcuno che ha bisogno, io non ho bisogno, mi creda senza fare l'atto di presunzione potrei ritirarmi in pensione perché ho oltre 45 anni fatti dalla gavetta ed è imprenditore come se avessi lavorato a 90 anni, non mi voglio arrendere, voglio fare questa missione perché per me è una missione riuscire a dare un contributo a chi veramente ha bisogno. Disagi alla ASL numero 7, i sindaci del territorio ieri hanno incontrato l'assessore alla sanità Luigi Arru e hanno chiesto il ripristino immediato dei servizi, in particolare la completa funzionalità del CUP, ce ne parla Tamara Peddis. Sui disagi che i cittadini stanno subendo per i disservizi sanitari della ASL 7 chiediamo solo che si ponga rimedio immediatamente perché le efficienze non devono essere pagate dall'utenza, non ci interessa stabilire di chi sia la colpa, occorre solamente fornire ai cittadini tutti i servizi di cui hanno bisogno. Così i sindaci dei distretti sanitari di Iglesias, Franco Porco e Carboni, Antonello Piroso, commentano la difficile situazione che negli ultimi giorni si è venuta a creare alla ASL 7, in seguito al taglio e al ridimensionamento di alcuni servizi da parte della direzione generale, in particolare la chiusura di alcuni sportelli del centro unico di prenotazione. Ieri i primi cittadini hanno incontrato l'assessore regionale alla sanità Luigi Arru al quale hanno fatto presente i disservizi e i disagi che gli utenti hanno lamentato. La preoccupazione dei sindaci riguarda anche l'aumento delle liste d'attesa. Da tre mesi, ha detto Franco Porco, le liste si sono allungate di 6-7 mesi. Questo, ha spiegato, non fa che aumentare la mobilità passiva, cioè il fatto che gli utenti fanno riferimento ad altre ASL o ad altre strutture fuori dal territorio. Secondo quanto riferito dai sindaci, da lunedì prossimo la direzione dovrebbe mettere in atto tutte le misure per ripristinare la situazione. Parliamo ancora di ASL, perché è appena giunto in redazione un comunicato stampa in relazione alle problematiche, alle polemiche di recente sorte alla riorganizzazione del CUP aziendale, scrive la ASL, o meglio il direttore generale dell'ASL. Si comunica che questa mattina il direttore generale e il direttore amministrativo dell'ASL hanno incontrato l'assessore alla sanità e il direttore generale della sanità. L'assessore ha dato ampia disponibilità a trovare idonee soluzioni per portare i servizi a livelli adeguati alle necessità dei cittadini. È stata quindi tracciata, si legge ancora, un'ipotesi di intervento condiviso tra Regione e ASL, i cui dettagli verranno messi a punto in un apposito incontro già fissato per venerdì 12 settembre. E passiamo alla vertenza IGEA. Le segreterie regionali e territoriali di CGL Cise Will sono state convocate questo pomeriggio alle 16 dall'assessore regionale all'industria Piras dopo la richiesta di un incontro avanzata nei giorni scorsi dei sindacati. In seguito alla notizia della convocazione è stato annullato il presidio che i lavoratori avrebbero dovuto tenere questa mattina davanti al palazzo di Viale Trento a Cagliari per mantenere alta l'attenzione sulla loro vertenza. Un treno passeggeri in partenza dalla stazione di Carbonia ha deragliato nei giorni scorsi non appena un chilometro dopo essere partito. Forse una manovra sbagliata del macchinista oppure un guasto meccanico potrebbero aver portato fuori dal binario il treno sul quale per fortuna non viaggiava alcun passeggero nella tarda serata di ieri con l'ausilio di alcune gru il mezzo delle ferrovie è stato sollevato e rimesso sui binari. Vediamo adesso un comunicato di Abanoa. Domani giovedì 11 settembre nel comune di Gonnesa le squadre di Abanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria della condotta idrica in Corso Matteotti Angolo Vico Primo Matteotti. Per consentire i lavori dalle 8 alle 14 sarà quindi necessario interrompere l'erogazione idrica alle utenze in via Costituzione, via Fermi, Vico Fermi, Vico Matteotti, via Verdi, via Irma Bandiere e Corso Matteotti nel tratto compreso tra via Costituzione e via della Pace. La gestione commissariale della ex provincia di Carboniglesias rende noto che sono aperte le iscrizioni all'albo provinciale delle associazioni culturali che hanno sede legale nel Sulcis per il 2015. Finalità dell'albo è quella di valorizzare il ruolo delle forme associative e degli organismi privati esistenti nel territorio e operanti nell'ambito dei settori della cultura, della musica, del teatro, del folklore e delle tradizioni popolari. La domanda di iscrizione è redatta utilizzando l'apposito modulo dovrà essere consegnata alla gestione commissariale ex provincia di Carboniglesias ufficio cultura sport e spettacolo in via Mazzini 39 a Carbonia. Entro e non oltre il 30 settembre. La città di Porto Scuso dice addio al nonnino Nicolino Sanna morto a 101 anni compiuti sei mesi fa. Era l'uomo più longevo del paese ed era presidente onorario della sezione locale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Da lunedì 6 ottobre inizierà il servizio mensa scolastica del comune di Carbonia. Il servizio è rivolto agli alunni che frequentano le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Sempre il 6 ottobre prenderà via anche il servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni sempre delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I moduli per l'iscrizione sono disponibili nell'ufficio della pubblica istruzione in via Mazzini oppure sul sito internet del comune www.comune.carbonia.ci.it La crisi economica colpisce anche lo sport. Iglesias, i dirigenti della squadra di pallavolo, la Volley Iglesias, hanno lanciato una campagna di sostegno popolare per la squadra che deve affrontare il costoso campionato di Serie B1. La Volley Iglesias non ha più fondi per mantenersi da sola. Ieri in una conferenza stampa l'amministrazione comunale della città ha messo a disposizione il suo impegno per sostenere questa iniziativa. Il contributo potrà essere erogato facendo riferimento al sito internet della squadra Volley Iglesias dove sono disponibili tutte le informazioni. Il nostro telegiornale termina qui. Vi ringrazio per averci seguito. Potete seguirci anche sul nostro sito www.canale40tv.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso le previsioni meteo e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG. Arrivederci. La giornata di giovedì nel Sulcis sarà caratterizzata da bel tempo e caldo. Il vento soffrirà da ovest con intensità di 18 km orari. Possibili raffiche fino a 24 km orari. Temperature minime comprese tra i 16 e 22 gradi e massime comprese tra i 27 e 32 gradi.